Salve a tutti, sono Ben Glinski, fondatore e direttore generale di Skinny Body Care. Negli ultimi cinque anni la nostra compagnia è silenziosamente diventata una delle compagnie dalla crescita più rapida in tutto il settore del lavoro da casa. Siamo apparsi in tutto Internet, su riviste e giornali. Siamo stati in TV. Ma la cosa più eccitante di tutto questo è che nonostante i ben cinque anni di risultati capaci di cambiare vite, un'infrastruttura solida come la roccia e priva di qualsiasi debito, un fantastico team di persone e tutto il riconoscimento che abbiamo ricevuto in tutto il mondo. Skinny Body Care rimane il segreto più nascosto del settore. Ma tutto questo sta per cambiare. Adesso, grazie alla presentazione di due dei prodotti di controllo del peso tra i più completi al mondo. Skinny Body Max, per aiutarti a mantenere il tuo corpo sazio e tenere a freno i tuoi desideri durante la giornata, insieme a Hibernate, uno dei prodotti più stupefacenti lanciati sul mercato negli ultimi dieci anni, per aiutarti a controllare il tuo peso per ben otto ore mentre dormi serenamente, e il nostro strepitoso prodotto anti-invecchiamento per la cura della pelle, Instant Youth, che può far apparire la tua pelle più giovane in pochi minuti. Completa perfettamente il nostro siero Ageless, riconosciuto nel mondo. Non è una sorpresa che il segreto sia rivelato. Cosa significa questo per te? Beh, oltre ad offrirti i prodotti che si vendono da soli, ti daremo tutti gli strumenti, i metodi, i siti web, i video, le esercitazioni, ogni cosa ti sarà utile a ottenere guadagni extra in modo più facile, più veloce, che con ogni altra compagnia nel settore. Infatti, il video che stai guardando proprio adesso è parte dell'unico vero sistema commerciale guidato dalla Powerline, che ti permette di prenotare gratis una posizione temporanea nella nostra compagnia, senza che tu debba prendere nessun impegno per poter iniziare. Ciò che questo significa è che quando inserisci il tuo nome e la tua mail su questa pagina, noi ti prenoteremo immediatamente una posizione ed inizieremo ad assumere persone sotto di te per aiutarti a iniziare a mettere insieme il tuo team e i tuoi guadagni. Ora, un sacco di persone non vogliono aspettare e vogliono ricevere questi prodotti cambia vita nelle loro mani il più in fretta possibile. Per questa ragione, tu puoi effettuare un ordine ogni volta che lo desideri. Oppure, se non sei ancora pronto, siediti e guarda il sistema a lavorare da solo. Non ti bombarderemo di e-mail. Ci limiteremo a informarti quando piazzeremo nuove persone nel tuo team e ti faremo sapere quando qualcuno sotto di te effettua un ordine. Cosa che dà a te l'opportunità di confermare la tua posizione e guadagnare commissioni sull'ordine di quella persona questa settimana e ogni volta effettuerà un nuovo ordine. In più, se loro decidono di creare un loro team, avrai la possibilità di guadagnare commissioni su tutta la loro struttura ogni singolo mese. Oppure, se dopo aver inviato le tue informazioni e visto come funziona il sistema, deciderai che questa opportunità non è ciò che fa per te e vorrai tirarti indietro, ti basterà cancellare la tua iscrizione dalle e-mail e noi rimuoveremo la tua posizione e non ti manderemo nient'altro. In entrambi i casi, se tu o chiunque tu conosca, avete bisogno di controllare il vostro peso o volete una pelle più sana e dall'aspetto più giovane, questi sono davvero prodotti da provare e con una garanzia di rimborso completo di 90 giorni, non hai nulla da perdere. Ora, dopo aver riservato la tua posizione gratuita, potrai tornare a controllare in qualsiasi momento per vedere le persone che abbiamo inserito nel tuo team. Ti basta andare su securemyposition.com ed inserire la tua e-mail. Ti manderemo tutto questo in una e-mail. Poi ti basterà inserire la stessa e-mail che stai usando su questa pagina e da lì potrai ordinare prodotti, confermare la tua posizione e ottenere accesso completo a qualsiasi cosa per iniziare a guadagnare soldi extra da casa. Ma non vuoi aspettare troppo a lungo. Giovedì è il nostro giorno limite. Ciò significa che chiunque abbia effettuato il proprio ordine sale in cima alla Powerline, sopra chiunque abbia esitato. Quindi, se hai qualcuno sotto di te che ha effettuato un ordine e tu non prendi la tua decisione entro giovedì, quella persona balzerà sopra di te e tu perderai guadagni su quella persona per sempre. Se decidi di unirti in seguito, saranno loro a venire pagati su di te e su tutto ciò che hai costruito, piuttosto che essere tu a guadagnare su di loro. Tu puoi confermare la tua posizione ordinando uno qualsiasi dei nostri prodotti per solo 59,95$ e, se lo desideri, puoi addirittura ottenere fino a tre prodotti gratis quando ne ordini altri. E per solo altri 10$ puoi diventare un fornitore e guadagnare commissioni limitate nel nostro piano di retribuzione. Ti manderemo perfino il nostro efficace kit di partenza per fornitori, insieme ai nostri Deplian, CD, materiale commerciale e molto altro ancora. Perciò compila il modulo a destra e non ti servirà molto per capire perché le persone stanno definendo Skinny Body Care la più sensazionale compagnia del settore. Ci vediamo sulla cima!